come è crescente ci vuole eh Isidore ma ora che stai facendo? spieghi a questi signori Isidore che avete fatto? spieghi a te un panno per spaccare tutto quanto ha fatto biscotto un biscotto ha spaccato il panno lo fa che? il biscotto si asciuga una nottata e di panno si può pagare il panno ma cioè di panno è buono per usare qua viene un processo è un processo ma un lardo che l'amido diventa zucchero si solidifica il biscotto è buono e poi ha più sapore quando viene bagnato e fa ingrassare bene perchè si asciugna lo sapevo e lo sapevo no no non lo tiene per dirmi cacolo non lo tiene ma ci sono un po' a fare lì la prossima volta eh fin quando balla che è successo? che quando si balla è sempre come questo è niente di più ti pare poco ti pare poco ti ce l'ho detto che i ballarici della amicietà i ballarici della amicietà i balli nostri su saltarello e ballarello in alta terra di lavoro su saltarello e ballarello bella io l'ho vista ballare molto difficile molto difficile alla festa a noi ai laghi al lago si è dell'alta terra di lavoro ha portato la ballarello e saltarello la festa d'amore a Napoli ha portato i miei amici a San Bugnare ci portate poi mi hanno video come no? ma lo sai? siamo andati siamo andati sui laghi ai castelli romani adostare la nave romana e la ballavano la saltarella di Amatrice di Amatrice il regno di Napoli la tradizione del regno di Napoli è la fine del Napoli ecco perché c'è la grande tradizione musicale altra terra di lavoro altra terra di lavoro altra terra di lavoro diciamo che so qualcosa sul brigandaggio costumitario e mi piace sempre e allora vai sul blog altra terra di lavoro.com roba nostra e quello è lui quando ti dice quando ci chiamo i neri ma ora no se no se no se no se no come si chiama quello laghi maestro Speranza no ma chi è ferrato nel brigandaggio come si deve? non omologato politicamente è benedetto vecchio è benedetto vecchio nella nostra terra chi ha cantato il brigandaggio in maniera corretta è benedetto vecchio vieni sul nostro blog sul nostro canale io c'ho l'associazione e no e verrai finita sono grandi studiosi sono grandi studiosi ma il patrimonio genetico del brigandaggio del sanguetismo e brigandaggio all'altra del lavoro terra di fra diavolo e tutto è benedetto vecchio e Raimondo Rotondi che tu non conosci ma non sapere chi tu non viste capo ma non viste come te finito abbiamo un uomo a me e tre strunze tre strunze attualmente è il sito a casa numero uno